21 ragazzi di origine straniera a Piacenza al compimento della maggiore età potranno diventare cittadini italiani. I requisiti richiesti dalla normativa semplificata di recente sono la nascita in Italia e il mantenimento della residenza legale ininterrotta. L'operazione è stata illustrata in comune alla presenza di alcuni dei giovani interessati che possono rivolgersi agli sportelli di Via Beverora. La normativa consente fino al compimento del 19esimo anno di età di richiedere la cittadinanza italiana. Noi abbiamo ritenuto di informare i giovani piacentini che sono in queste condizioni del loro diritto e se lo eserciteranno come immaginiamo avranno la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana e quindi di entrare a far parte a tutti gli effetti della nostra comunità anche in termini di appartenenza, quindi appunto di cittadinanza. Sono nata qui nel 96, sono sempre andata a scuola quasi, gli elementari, i medi e superiori, mi sono sempre trovata benissimo perché comunque quando nasci in un posto alla fine ti abitui a quel posto e ti piace stare qua in compagnia. Sono abituata qua con gli amici, con le amiche e sono felice di prendere la cittadinanza italiana. Tu in che origine hai? Macedoni. Ho la maggior parte dei parenti lì, però comunque preferisco stare qua, cioè vivere qua con la mia famiglia. Allora, allora, io ho la maggior parte dei parenti lì, ma io ho la maggior parte dei parenti lì, ma io ho la maggior parte dei parenti lì, ma io ho la maggior parte dei parenti lì, ma io ho la maggior parte dei parenti lì, ma io ho la maggior parte dei parenti lì, ma io ho la maggior parte dei parenti lì, ma io ho la maggior parte dei parenti lì, ma io ho la maggior parte dei parenti, 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 ma io ho